I cavalli nella storia del cinema saranno al centro della prossima puntata di Cineamando in onda venerdì alle ore 23 e 30. E si tratti di western o di film drammatici, sentimentali o di commedie, il destriero ha attraversato al galoppo l'intera storia del cinema, tra le tante pellicole che citeremo, il divertente e imprescindibile Febbre da cavallo. Io però subito Filippo ti butto lì la parola d'ordine del cinema ippico italiano, la mandracata. Questo è il titolo clou, diciamo in un certo senso, un titolo che però non piace tanto agli ippici italiani, perché dà un'immagine un po' caricaturale, ma non troppo, caricaturale dello scommettitore dei cavalli. L'immagine simbolo, la scena simbolo si svolge in tribunale, dove l'avvocato De Marchis è imputato, Mario Carotenuto è imputato e chiede al giudice che è Adolfo Celi, ma chi è sto giocatore dei cavalli? E allora dai là la ringa difensiva di Bruno Fioretti, Ermandrache, Gigi Proietti, che dice ma il giocatore dei cavalli è un frullato, è un misto di cose, e poi chiede ad Adolfo Celi la soluzione per infermità mentale, e per incapacità di intendere e volere. Evidentemente il giocatore dei cavalli deve essere assolto perché è incapace di intendere e volere. Insomma, questa cosa ha un po' urtato gli ippici. Il film, diretto da Stefano Vanzina in arte steno, vide poi un remake diretto dal figlio, Carlo Vanzina. Carlo Vanzina è stato sceneggiatore anche di un film che si è girato due anni dopo. Febbre da cavallo è del 1976, è stato un flop ai botteghini anche per quanto riguarda la critica, salvo poi diventare un cult, come hai detto. Due anni più tardi è uscito Per vivere meglio, divertitevi con noi, un film di Flavio Mogherini, molto divertente. Ci sono tre episodi molto divertenti e nel terzo episodio si svolge completamente avarese. Quella Varese si respira molto in questo film che è incentrato sulla figura di Renato Pozzetto, che è uno scommettitore di cavalli, che vive di espedienti, vive in una casa, in una stanza subaffittata dalla padrona di casa che è Milena Vukotic. È sempre squattrinato, quindi non paga l'affitto del suo subappartamento, diciamo, subaffittato all'interno della casa di Milena Vukotic. Vukotic compie una serie di truffe per poi far debuttare questo suo cavallo, un grigio, un grigio come il cavallo soldatino, il cavallo famoso di febbre da cavallo. Fa debuttare questo Lord Byron, alla scena si svolgono le bettole, si vedono le bettole, si vede il centro di allenamento di Castelverde, molto bello e diventerà ricco grazie a Lord Byron dopo una serie di truffe. Grazie a tutti.